Oh, buonasera, in quanti siete qua stasera, porca miseria, eravate qua per loro. Mi spiace di tirar giù la media con la mia presenza attuale, a parlare anche tra l'altro di futurismo. La prima battuta cattiva che mi viene è capire se futurismo non vuol dire fu-turismo. E perché a non essere seri si fa prima. E in verità sta faccenda è un po' nata, avete sentito l'inizio del manifesto, questa passione ingenua e simpatica per i motori, per la velocità, per tutta una roba nuova, gli aeroplani. Pensate, nel 1907 a Brescia si mette in piedi la prima mille miglia. Cioè le automobili c'erano già nel 1906, a Parigi parte la Parigi-Pechino. Cioè erano tutti pazzi per le automobili e in fondo per un certo periodo assai lungo della nostra cultura condivisa c'era questa battuta non del tutto corretta politicamente, che è donne e motori, gioia e dolori. E questa battuta, donne e motori, gioia e dolori, in fondo è una delle spiegazioni sia del futurismo che dell'antifuturismo. Perché così dobbiamo cominciare a iniziare questa storia in un modo particolare. Marinetti era abbastanza uno agiato di famiglia, era cresciuto in Egitto, si era formato fra l'Egitto e Parigi, poi stava a Milano, scrive al francese come l'italiano, anzi talvolta forse è meglio il francese dell'italiano. E aveva una grande passione per le automobili, quindi parte la famosa corsa da Brescia e l'anno dopo lui si compra un isotto a Fraschini. Ecco, comprarsi un isotto a Fraschini allora vuole equivale a, come cifra, a comprarsi oggi un piccolo jet, come costo in un'economia personale. Si compra i isotto a Fraschini, scappa, corre fuori Milano, incontra due in bicicletta, non riesce a evitarli e finisce in un fosso. È iniziata subito così la storia, cioè in un modo per un certo verso epico e per l'altro verso abbastanza normale, banale, anche un po' piccolo borghese, se si vuol dire. La questione di attribuire questa passione solo ai futurismi è innegabilmente riduttiva, perché il non futurista per eccellenza, è un vostro vicino qua, abruzzese, il Gabriele, il Gabriele Danunzio, ha questa stessa passione per gli aeroplani. Sale sul primo aeroplano che viene andato, si mette alla mitraliera, perché si eccita, ma non sa sparare, non sa andare in aereo, si ferisce. L'unica ferita vera di guerra di Gabriele Danunzio è quando ha tentato di usare la mitraliera e sparare e dire in culo gli è entrata in un occhio. Allora, in questo c'è la descrizione più simpatica dell'italianità, l'entusiasmo e l'incapacità combinate. La voglia di essere assolutamente lì, di dominare i tempi come lui lo racconta, vegliavamo per notte intere sotto lampade traforate, eravamo nel ventre di queste navi formidabili con i fuochisti, avevamo preso i treni per andare a Parigi, bla bla, tutta strada, però poi alla fine, quando sale sull'automobile, va fuori strada. È l'Italia. Però è anche contemporaneamente in un momento epico, straordinario, formidabile di nascita delle avanguardie. Cioè da quel momento in poi si forma l'idea che un piccolo nucleo di persone abbia la forza per trascinare le masse che stanno dietro queste persone. E questa oggettivamente è assai innovativa, ma lui lo fa tra l'altro in un modo molto bizzarro, perché non lo fa in Italia, lo fa a Parigi. Quando nel 1909 pubblica il Manifesto del Futurismo, non lo pubblica mica su un giornale, lo scrive a Milano in un incrocio di, che esiste ancora la casa, tra l'incrocio di Corso Venezia con Via Visconti di Modroni, in una casa molto agiata, perché stavano un po' da signori, scrive il Manifesto, però lo va a pubblicare a Parigi. Lo pubblica sul Figaro. Perché lo pubblica sul Figaro? Perché il direttore del Figaro era uno molto amante dell'eccitazione bellica. E a tal punto che poi verrà assassinato dalla moglie per questione di corna, ma tutti penseranno che sia stato assassinato per questione di armamenti bellici. Perché faceva il bellicista in una Francia che allora, avendo un governo di stampo più o meno socialista, era contrario al riarmo, commettendo un errore diabolico, perché i tedeschi nel frattempo si armavano e nel 14 scoppiò la guerra con i tedeschi che all'inizio sembravano dovessero vincere. Quindi lo pubblica sul Figaro da questo direttore bizzarro e lo pubblica in francese. Lo pubblica ancora con una testa anarchica, perché dopo tutte queste introduzioni di cui avete sentito un po' il sunto contro il museo per un rinnovo radicale delle arti, per un intervento diretto da parte degli intellettuali e degli artisti, e conclude con una frase straordinaria che è a favore quasi della guerra. Dice, noi siamo per le grandi idee, in francese, noi siamo per le grandi idee che uccidono. Affermazione totalmente anarchica. Quando l'anno prossimo, l'anno successivo, verrà pubblicato in Italia, appare pochi mesi dopo, ma si diffonde in vari giornali italiani e diventa una sorta di manifesto accettato in Italia dal 1910, dice un'altra cosa, lo traduce con una piccola differenza, siamo per le idee per le quali vale la pena morire, che non è più la stessa cosa, avere le idee che uccidono e invece sposare un'idea per la quale vale la pena morire. In questa sorta di sottomissione a un ideale scompare lo spirito anarchico e appare già la prima premessa di uno spirito diverso, che per alcuni è l'embrione dello spirito fascista successivo, per altri è anche l'embrione di un'Italia che si sta sollevando, sta dandosi una certa fierezza, sta immaginando di diventare una potenza internazionale, di fatto nel 10, nell'11 l'Italia va e fa la prima guerra in Libia, cioè la prima grande conquista colonica, coloniale, colonialista, dopo il tentativo di avere spezzato delle reni invece al Negus in Etiopia, alla fine dell'Ottocento si fa la spedizione in Etiopia, ma il Negus è molto meno stupido di quanto non sembri, l'Italia becca una batosta tremenda e torna in Etiopia molto più avanti, si torna indietro con un bagno di sangue. In Libia è più facile, perché la Libia è la parte più estrema, più lontana ormai dell'impero ottomano, non frega niente della Libia, neanche al soglio di Istanbul, sono quattro disperati con dei fucili ad avancarica che vengono sparegliati in un attimo, ma in quel momento uno dei grandi poeti italiani si inalbera e dice, scrive, dell'Italia la grande proletaria si è mossa, questo paese di poveretti, di disperati, di emigranti, finalmente si è dato una grinta, si è dato un coraggio ed è stato capace di invadere la Libia. Allora il percorso è complessivo, va da lì ed arriva fino all'invasione della Libia e arriverà poi alla partecipazione di gran parte dell'intellettuale e degli artisti come sostenitore della Prima Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale scoppia fra Francia, Germania e potenze centrali nel 14. L'Italia è lì che sta un po' a vedere se gli conviene entrare in guerra o non gli conviene entrare in guerra. Gli stati maggiori piemontesi ci tengono ad entrare in guerra, la monarchia ci tiene, alcuni non ci tengono, l'industria spinge in quella direzione. Alla fine con un anno di ritardo entriamo in guerra anche noi. Noi tendenzialmente entriamo in guerra dopo gli altri sperando di portare a casa qualcosa e spesso portiamo a casa ma la pena la pelle. È stata così anche per la Prima Guerra Mondiale e per acquistare 300.000 nuovi italiani fra Trentino e Trieste ne abbiamo fatti morire 3 milioni. È stata una catastrofe la Prima Guerra Mondiale. Ma questa è la prima delle catastrofe gran parte dell'Italia la affronta con una passione assoluta, con l'arditismo, con il fatto che tutti corrono lì, Umberto Boccioni che è uno dei primi sottoscrittori del Manifesto del Futurismo parte volontario immediatamente in guerra e dopo aver letto i testi sulle automobili, sugli aerei zac zac pum pum ci va in bicicletta. E tutta la storia d'Italia riassunta in questa sorta di banalità assoluta. Ci va in bicicletta, combatte un anno, dopo un anno si accorge che la guerra non è affatto quella che si immaginavano e scrive una di quelle parole succinte tipiche dei futuristi guerra uguale insetti più polvere. Aveva già capito tutto. La trincea non era affatto quel luogo glorioso dove avrebbero potuto ritrovarsi la trincea era un posto fetente nel quale si moriva, nel quale c'era il fango d'inverno e nel quale c'erano le mosche d'estate. E poi torna a Chievo adesso dove c'è la famosa squadra di calcio e a Chievo non gli spiegano una cosa fondamentale che avevano spiegato a tutti prima quando ai militari si diceva ai militari giovani che entravano in cavalleria state attenti state davanti ai cavalli dietro ai cannoni e lontano dagli ufficiali e camperete benissimo. Lui non aveva capito bene purtroppo si è messo dietro al cavallo ha preso una pedata e è morto. Quindi l'amante dei motori l'esaltatore della modernità delle mitraliere e della guerra totale va in guerra in bicicletta e muore per una pedata di cavallo. È un altro caso di mestizia e in un qualche modo anche di riduzione delle folie italiche di fronte al grande evento. Però in quella loro folia c'è il germe di un'energia nuova. È vero che corrisponde anche ad un'energia nuova. E c'è il germe di ciò che verrà definito dopo anni a partire dagli anni venti soprattutto con la parola di avanguardia. Quindi io non vorrei parlare di tanto di futurismo di Marinetti quanto del concetto di avanguardia. Che cos'è l'avanguardia? Perché nasce l'avanguardia? E dove nasce l'avanguardia? L'avanguardia è un fenomeno particolare perché è un meccanismo nel quale per la prima volta un gruppo di creativi sia nella letteratura che nelle arti visive sia nel romanzo che nella pittura e nella scultura decide che il rapporto fra loro l'opera e il pubblico possa essere interrotto. Non è affatto necessario che ciò che faccio sia riconosciuto dal pubblico in massa. Anzi se non è riconosciuto tanto meglio. Se non è riconosciuto vuol dire che sono meglio degli altri. Il tutto inizia in verità con lo spirito della rivoluzione francese e però prende corpo dopo la restaurazione sapete che è caduto Napoleone in Francia si ripone sul trono si ripongono sul trono i due fratelli minori del re decapitato sono Carlo X e Luigi XI e si chiama restaurazione. Questa restaurazione è il momento nel quale oggettivamente comincia a crescere la borghesia ma soprattutto comincia a crescere la frustrazione di un mondo giovanile estremamente vivace divertente che ha voluto diventare protagonista della storia. Il Napoleone Bonaparte che non era affatto stupido aveva inventato alcune parole in quel periodo una con la quale maltrattava gli intellettuali che era la parola ideologo il primo che usa la parola ideologo che diventerà nel ventesimo secolo una parola fondamentale perché è quella sulla quale si baseranno molti dei movimenti rivoluzionali il primo che usa la parola ideologo è Napoleone Bonaparte per maltrattare quelli che menavano Camperlaia con le idee però male fece perché quelli che menavano Camperlaia con le idee poi si danno alla letteratura si danno al teatro e all'inizio del febbraio del 1830 un giovane esordiente che si chiama Victor Hugo mette in scena a Parigi uno spettacolo teatrale di una noia mortale devo dire la verità rivedendolo oggi che si chiama Ernani è quello che riprenderà poi Giuseppe Verdi vent'anni dopo per fare l'Ernani la sua opera quell'Ernani lì è il momento nel quale una generazione di giovani si riconosce contro una generazione di vecchi bisogna definire cosa erano i vecchi per loro cosa erano i giovani i giovani erano tutti meno di 29 30 anni cioè lo stesso Hugo aveva 29 anni uno degli amici che partecipava lì era Hector Berlioz quello della sinfonia fantastica che ne aveva 28 Teofil Gauthier che era il grande diventerà poi il grande critico della letteratura francese ne aveva 23-24 e portava segnale già significativo di tutte le avanguardie successive un gilet rosso il gilet rosso discendeva dal cappellino che avevano i giacobini che era la cuffia rossa la cuffia rossa dei giacobini discendeva dalla prima protesta in Inghilterra contro il fisco dove si era messo il cappuccio rosso in testa il rosso diventa il colore della rivolta a partire dal 1830 le bandiere rosse è tutta roba che viene dopo anche quelle degli amici del PC di una volta è tutta roba che viene dopo nasce in quel momento un'ipotesi di un nucleo di giovani che contesta la generazione degli anziani prima serata dello spettacolo gli anziani hanno 40 anni i giovani ne hanno 20 25 29 nasce una baruffa infinita perché gli anziani trovano lo spettacolo orribile i giovani trovano lo spettacolo formidabile si menano si picchiano si lanciano soprattutto degli ortaggi dei cavoli e il tutto finisce in zuffa la polizia interviene si chiude lo spettacolo lo spettacolo riprende però settimana successiva e fa 150 repliche allora pensate che 150 repliche con mille persone in media in teatro vuol dire avere comunicato quell'operazione di rivolta a 150.000 persone a Parigi in quegli anni che voleva dire averlo comunicato al mondo intero la prima grande rivolta giovanile è quella che determina il primo segnale di una cosa che potremmo chiamare un'avanguardia loro si sentono sia ideologi che avanguardisti non usano ancora la parola bisogna cominciare a capire ma che cos'è questa parola dell'avanguardia cos'è l'avanguardia il primo che ne parla con una certa crudeltà è Giulio Cesare nel De Bello Gallico qualcuno di voi ve lo ricordate abbiamo tradotto da ragazzi a scuola nel De Bello Gallico l'avanguardia era quel gruppo di disperati che Giulio sceglieva nelle sue legioni li mandava davanti alle legioni contro i galli e di solito venivano restituiti spennati se non assassinati l'avanguardia era quella piccola porzione di esseri umani che precedeva le masse delle legioni questo rapporto dialettico fra trazione e tra i nati diventa in un qualche modo la percezione della funzione dell'avanguardia nel XIX secolo e che ci portiamo presso fino nel XX è avanguardia quella roba lì allora da quel momento in poi l'avanguardia sarà sempre una sorta di micro realtà di ragazzi pronti al sacrificio supremo pur di trascinare le masse è fondamentale il rapporto avanguardia-massa senza masse non ci sono avanguardie senza legioni non ci sono le avanguardie senza le masse che si formano nell'Europa industriale del XIX secolo non ci può essere l'avanguardia questo rapporto diventa il rapporto tra i nati attraverso il secolo la cosa interessante è che il meccanismo effettivo di avanguardia che si sviluppa nella letteratura ha un suo epicentro in un qualche modo di elaborazione teorica in due città opposte nello stesso periodo che sono Londra e Firenze a Londra avviene ne avrete sentito parlare la prima delle expo universali della storia d'Occidente nel 1851 e avrà un successo folgorante 9 milioni di spettatori a loro paganti era una roba incredibile ed è il momento nel quale chiunque in Europa avesse la possibilità di spostarsi se ne va a Londra a vedere la prima grande expo e anche la prima expo nella quale 50-51 esiste già un padiglione in Italia quando l'Italia non esiste ancora cioè quindi c'era la sensazione di rappresentare la punta avanzata dell'evoluzione industriale in reazione a quel fenomeno dell'industrialità si forma la prima avanguardia che è quella dei pittori detti pre-Raffaeliti di cui forse avete sentito parlare alcuni li conoscono benissimo ma sono i primi artisti che dicono no noi dell'industria non ce ne frega niente a noi di questa ipotesi di creare il grande palazzo di vetro di fare il mondo intero che si verifica non ce ne può importare di meno noi vogliamo tornare alle antiche radici celtiche dell'inglese non vogliamo l'industria vogliamo l'artigianato più raffinato del mondo non vogliamo la contemporaneità o non vogliamo quelli che copiano Michelangelo non vogliamo la pittura ufficiale vogliamo la pittura alternativa dei sogni la pittura degli ignomi antichi la pittura dei boschi nasce la prima pittura simbolista dei pre-Raffaeliti e contemporaneamente avendo loro una sorta di guru che si chiama William Morris nasce anche la prima ipotesi di design moderno cioè la prima progettazione regolare di oggetti per l'industria che non siano affatto quelli industriali ma che riprendono il sapore dell'antichità che riprendono il sapore popolare della storia passata ecco la l'avanguardia che si forma curiosamente in periodo analogo a Firenze intorno a un nucleo piccolino di artisti nasce una situazione analoga è curioso perché i fiorentini hanno comprato i quadri fino alla metà del 600 da dopo non hanno mai più comprato un quadro i fiorentini sono avari è noto quadri li comprano solo se costano poco e sicuramente non comprano quelli dei loro artisti contemporanei questo nucleo di artisti fra i quali alcuni diventeranno molto famosi Telemaco Signorini Giovanni Fattori cioè vengono tutti fuori da lì e si aggrega intorno ad un mercante che è Diego Martelli Diego Martelli sa già che non venderà mai niente e comincia ad organizzare gli incontri fra di loro un po' al caffè Michelangelo a Firenze e un po' nella settenuta campagna a Castiglioncello è per quello che si mettono a dipingere quelle scene campestre straordinarie i bovi estivi toscani quelle luci formidabili dell'Italia centrale e che inventano quello che si chiamerà il mondo dei macchiaioli cioè il mondo dove la macchia di luce diventa predominante rispetto alla descrizione iconografica tradizionale di un dipinto sono loro i primi veri avanguardisti d'occidente e questo comportamento d'avanguardia fiorentino diventerà una qualche modo una traccia per le avanguardie italiane si nasce un movimento analogo una quindicina d'anni dopo a Milano con la scapigliatura si fanno delle provocazioni incredibili si fanno delle mostre nelle quali è invitato il pubblico a vedere delle cose che non si era mai immaginate prima un gruppo dei milanesi della scapigliatura compie il primo quadro mette in scena il primo quadro antiquadro che possa esistere cioè legano un pennello alla coda di un asino accarezzano l'asino sperano che l'asino muova la coda e con la coda dipinge un dipinto quel dipinto è il dipinto ufficiale dell'avanguardia dei macchiaioli poi gli altri macchiaioli diventeranno carcano in company diventeranno anche pittori molto raffinati da loro discenderà una parte della pittura più mistica lombarda quella di Segantini ma la prima impressione è questa rottura e da questa rottura sarà poi figlio tanti anni dopo la rottura dei futuristi i futuristi sono i provocatori per eccellenza questo loro modo di provocare scatena in Europa una serie di emulazioni che sono legate anche al peregrinare di questo simpatico Marinetti che va a Parigi con i primi dove pubblica porta a Parigi un gruppo degli italiani che vanno a vivere da quelle parti Boccioni va a Parigi per la prima mostra li porta a Berlino a Berlino incontrano un altro mercante che anche lui si occupa di alternative assolute da Berlino se ne vanno a Mosca tutto ciò in un'Europa degli ultimi sprazzi di esplosione porchese anteriore alla prima guerra mondiale l'avanguardia diventa un meccanismo percepito stabile della cultura occidentale noi da allora siamo diventati avanguardisti e questo percorso avrà poi durante la guerra anche una continuità inarrestata perché gli italiani vanno sia a fare la guerra nel bene o nel male cadendo da cavallo prendendo la pedata o morendo come Sant'Elia il più bravo degli architetti teorici futuristi di quel periodo che parte con entusiasmo nelle trincee nel Friuli e non gli dicono che bisogna stare attenti nelle trincee il primo giorno che è lì tira fuori la testa un cecchino austriaco lo centra in pieno e muore quindi loro interventisti carichi di energia assolutamente non pronti a ciò che sarà la guerra forse l'unico che ne verrà fuori indenne è un uomo che è una grinta tutta particolare perché contemporaneamente è sarto e milanese quindi ha la conciutaggine degli uni come degli altri che è Mario Sironi Mario Sironi torna dalla guerra e torna dalla guerra con una formazione estetica completata e sarà uno dei protagonisti poi del percorso successivo delle arti e delle avanguardie ma il concetto di fondo è proprio questo concetto perenne di avanguardia che è in un qualche modo il significato profondo dell'evoluzione delle arti in Europa nel ventesimo secolo 1917 a Zurigo sono trincerati tutta una serie di artisti tedeschi che con la guerra non vogliono avere che va a vedere e che inventano il movimento dadaista 1917 a Parigi però contemporaneamente Picasso mette in scena con Eric Satie che è il musicista più alternativo di quell'epoca e con Cocteau che lo sta stimolando Parade una sorta di realizzazione teatrale assolutamente folle in una città che nel contempo ha i cari tedeschi vicini e le trincee con il gas mostarda cioè da un lato si muore e in alternativa Parigi si vive mai come nella prima guerra mondiale la vita nelle città continuò ad essere pulsante mentre nelle campagne si andava a morire è una cosa abbastanza difficile per noi da capire perché la seconda guerra mondiale ha coinvolto molto più destrettamente le città ha cambiato la vita nelle città ma una città come Parigi il numero degli spettacoli non calò da un attimo malgrado la guerra il numero delle mostre gli interventi espositivi la presenza pensate l'avventura di Modigliani avviene tutta in quegli anni lì della guerra Picasso diventa un eroe delle arti in quel periodo e lo diventa perché il concetto di avanguardia è un concetto ormai stabile ed è un concetto nel quale tutta la società si riconosce allora diventa intrigante capire come va a finire questa faccenda dell'avanguardia il ventesimo secolo sarà il secolo dell'avanguardia cioè una dopo l'altra tutti si chiamano ismi il primo si chiama futurismo il secondo si chiama cubismo quell'altro si chiama suprematismo in Russia quell'altro si chiama simbolismo poi alcuni fanno più matti si chiama l'orfismo il tutto evolve verso il surrealismo questo mondo di ismi che non c'era mai stata nella pittura che nasce con la parola impressionismo è la matrice della nostra idea di modernità noi siamo moderni in quanto crediamo alle avanguardie lo siamo dalla metà dell'ottocento in avanti e lo siamo attraverso non solo le centrali di operatività lo siamo anche nei luoghi più centrati in quei nuclei inglesi che non partecipano alle corsi di potere lo siamo in una Firenze che non frega niente nessuno allora perché è preunitaria e che non è neanche più interessata a comprare quadri quindi sorge questa realtà nuova io esisto come artista in quanto non sono più riconosciuto da un mercato non sono riconosciuto tanto meno neanche da una realtà esterna che è una realtà critica anzi me ne frega di avere mercato me ne frega di avere realtà critica esisto in quanto i miei colleghi i miei quattro amici quelli del mio gruppo si riconoscono in me reputano che ciò che faccio sia una cosa interessante fenomeno molto particolare non era mai avvenuta nella storia occidentale cioè se un artista non aveva successo era meglio che smettessi di dipingere Caravaggio per quanto si racconta su di lui o si possa raccontare su di lui storie assolutamente nere compresa la sua morte però era uno che arrivò a Roma ebbe un successo immediato vendeva i cardinali più sofisticati e se scappava era perché era un uomo rissoso o di cattivo carattere se si spostava da Roma a Napoli poi da Napoli a Malta da Malta di nuovo a Napoli era tutta altra cosa l'idea di avanguardia è un'idea della modernità e questo che la rende come fenomenologia estremamente intrigante e diventerà un'idea stabile della modernità cioè noi non possiamo immaginare il mondo moderno senza il mondo dell'avanguardia tra l'altro questo mondo dell'avanguardia si evolve con una conflittualità perenne cioè a Parigi viene accettata in Germania viene per un certo periodo ad essere protagonista pensate cos'è la Germania che partecipa alla grande esposizione universale di Barcellona quando Miss Van der Rohe presenta il primo padiglione di architettura assolutamente moderna assolutamente trasparente con le vetrate e inventa quella poltrona che si chiama appunto Barcellona che si compra ancora adesso cioè noi quegli oggetti di allora li viviamo ancora nella nostra contemporaneità però contemporaneamente sale sta salendo il potere Adolfo e Adolfo con l'avanguardia lì la eliminerà inizialmente la tolera poco dopo un po' arriva addirittura ad eliminarla su serie cioè faranno nel 1937 la grande mostra contro ogni tipo di avanguardia che è la mostra sull'arte degenerata gran parte delle opere verranno confiscate alcune verranno distrutte le altre verranno accantonate nascoste finché non verranno riscoperte nel secondo dopoguerra cioè l'avanguardia diventa l'elemento contro il quale bisogna battersi e la differenza fra le aree in un qualche modo chiamiamole così democratiche occidentali e le aree totalitarie saranno legate al fatto che i totalitari vieteranno le avanguardie lo stesso fenomeno che avviene nella Germania di Adolfo Hitler è quello che avviene nella Russia di Giuseppe Stalin quando Shdanov che fa il teorico della cultura a sua volta comincia a proibire le sperimentazioni di avanguardia che avevano invece sposato all'inizio con passione la rivoluzione russa e li obbliga tutti a diventare quei pittori un po' tristi un po' narrativi un po' soprattutto figurativi che saranno quelli del regime sovietico l'avanguardia è energia all'inizio e dopo che è stata energia deve diventare in un qualche modo nemico l'unico paese che si salva nel momento del totalitarismo e nel rapporto con l'avanguardia è curiosamente l'Italia un po' perché gli italiani sono per loro natura pronti al mettersi un po' d'accordo un po' perché la figura di Marinetti diventa una figura trainante anche negli anni del fascismo un po' perché il mascellone di Predappio è meno bestia di quanto non lo è l'imbianchino tedesco cioè ognuno ha diritto alla propria bestialità sicuramente il mascellone di Predappio è più colto anche di Giuseppe Stalin e in Italia il rapporto con l'avanguardia continua ad essere tollerato con la parola futurista è permesso essere alternativi alcuni degli artisti più innovativi più dirompenti degli anni 30 riescono a sopravvivere perché Marinetti li mette sotto il capuccio di futurismo e il capuccio di futurismo diventa garante di ogni diritto della sperimentazione i primi astratisti italiani alternativi i primi che propongono la fuga dalla rappresentazione fisica visiva saranno protetti da Marinetti e poi entreranno nelle quadrinale romane con il cappellino di futurista questo rende l'Italia un po' atipica rispetto agli altri paesi e a questo si aggiunge anche il fatto che i grandi guru del Ministero della Cultura Popolare mentre se dovrebbero seguire i nordici ed essere oppositivi sono invece in Italia dei partecipanti e questo lo sono per mille motivi ma anche per la figura che a quel punto ha assunto D'Annunzio quello dal quale eravamo partiti in questo racconto D'Annunzio diventa con Marinetti uno dei due guru della cultura ufficiale italiana e garantisce dei diritti di libertà che fanno sì che malgrado la dittatura in Italia la libertà creativa in un qualche modo rimane garantita l'Italia continua a avere il diritto di fare avanguardia ed è anche il motivo per il quale quando poi sarà finito il fascismo alcuni degli elementi più inattesi di innovazione avranno ancora una volta in Italia pensate che cos'è nell'immediato dopo guerra tutto il mondo che sta intorno al manifesto dello spazialismo di Lucio Fontana e a decine e decine di artisti che rompono tutti gli schemi della figurazione e accettano il taglio di Fontana come accettano la famosa scatola di merda di Manzoni cioè l'Italia rimane un paese di sperimentazione d'avanguardia e rimane un paese di avanguardisti lo rimane meno fortemente di quanto non lo era stato all'inizio del secolo perché nel frattempo il paese si è indebolito il paese paga anche lo scotto di essere stato uno dei paesi belligeranti perdenti e accetta una nuova mutazione dell'avanguardia la nuova mutazione dell'avanguardia è quella che ci imporano gli americani l'americana è un paese molto più complesso di quanto non lo pensiamo e sa una cosa fondamentale che in fondo il segno è utile a stabilire il peso della politica 1963-64 in quegli anni i tedeschi avevano cominciato ad avere i primi scioperi in quegli anni dal 58 in avanti il generale De Gaulle era uscito dalla Nato aveva mandato al diavolo gli americani nel 1963 gli italiani avevano la pessima idea di fare il primo governo di centro-sinistra di fare entrare i socialisti in governo negli Stati Uniti si gratta la testa si dice ma la Pax Romana che è la Pax Romana nuova che è la Pax Americana che siamo riusciti a stabilire nel mondo dopo la seconda guerra mondiale sarà mica in crisi? Non sarà forse in un qualche modo a rischio? L'Europa ci sta scappando dalle mani? Avviene un fenomeno straordinario il più raffinato dei signori che fa il collegamento fra Europa e Stati Uniti è un triestino che si chiama Castelli e che ha sposato una signora molto importante di origine ungherese rumena con la quale è andato a vivere negli Stati Uniti probabilmente Leo Castelli probabilmente è stato ancora nel 38-39 essendo allora il direttore dell'assicurazione generale a Bucarest legato un po' anche ai servizi italiani nel 41 essendo di origine ebraica quando sente arrivare i tedeschi a Parigi riesce protetto dall'ovra a fuggire negli Stati Uniti negli Stati Uniti riprende una carriera di mercante d'arte brillantissima e diventa in un qualche modo uno dei personaggi utili alla nuova linea politica americana che allora si comincia a basare sul meccartismo e sull'inizio della guerra fredda con il mondo russo 1963 la guerra fredda è in corso torniamo la Francia di De Gaulle se n'è andata l'Italia con Pietro Nenni rischia di colorarsi se non proprio di rosso come questa piazza ma un po' di rosa l'America si preoccupa Leo Castelli riesce ad organizzare un'operazione folgorante alla Biennale di Venezia dove il padiglione americano era già stato occupato da un artista americano deciso anni prima lui fa arrivare una fregata della sesta flotta da questa fregata barcono scaricano una serie di dipinti di Pope Rauschenberg fanno una mostra non alla Biennale di Venezia la fanno in un edificio affittato appositamente dal consolato americano la sera dopo c'è una bellissima serata di balletto del più grande coreografo americano d'avanguardia allora che è Merce Cunningham la musica di John Cage il grande musicista dell'avanguardia totale il riassunto dell'avanguardia si fa le scenografie sono di Pope Rauschenberg si fa la Fenice di Venezia la Fenice è diventato lo strumento per l'esaltazione di una vanguardia diversa Leo Castelli è lì quella sera Pope Rauschenberg entra nella sala e tutti si mettono a applaudire perché si sapeva già prima dell'apertura della Biennale che lui aveva vinto Leon d'Oro l'avanguardia è diventato uno strumento del controllo politico mondiale da ciò che era prima un pungolo di tipo alternativo in Francia un pungolo alternativo che diventa meccanismo di potere in Italia nel fascismo l'avanguardia diventa uno strumento di dominio delle culture potenti sulle culture deboli d'Europa da quel momento in poi le avanguardie da noi non ci saranno più le avanguardie saranno un meccanismo di comunicazione in mano alla grande America avremo ancora il diritto ad imitarli in un modo anche talvolta abbastanza attraente penso a ciò che è stata la piccola squadra di artisti alternativi di Piazza del Popolo a Roma con Franco Angeli con Mario Schifano con tutto quel gruppo di alternativi totali che fanno una pop art per italiani ma la vera pop art è quella americana l'avanguardia diventa un fatto economico diventa un fatto di potere e se pensate fino in fondo com'è questa evoluzione arriverete alle notizie lette negli ultimi giorni del coniglietto di metallo di Jeff Koons che per dimostrare la superiorità americana sulle culture mondiali finge di essere l'avanguardia del coniglietto e viene venduto a 95 milioni di dollari ad una cifra assolutamente improbabile oggi l'avanguardia è codificata è uno strumento politico di potere ed è uno strumento che serve ad imporre una logica esistenziale su altre logiche del mondo in fondo quella vecchia dichiarazione con la quale la mamma di Costantino lo aveva spinto a entrare in guerra contro Massenzio all'inizio del quarto secolo quando gli diede la croce e gli disse in hoc signo vinces con questo segno tu vincerai diventa il nuovo meccanismo americano la bottiglia di Coca-Cola c'è scritto su in hoc signo vinces con la Coca-Cola tu dominerai il mondo ma siccome la Coca-Cola non basta è molto meglio aggiungere anche Bob Rauschenberg e aggiungere John Cage cioè l'arte americana diventa oggi un'avanguardia che non è più avanguardia che è codificata e questo codice è quello con il quale si tenta di imporre una linea mondiale che è una linea di predominio dalle rivolte anarchiche di Marinetti si è arrivati un secolo dopo a un uso assolutamente forte e politico della comunicazione pittorica e artistica come meccanismo di supremazia mondiale è finita l'avanguardia ma perché è finita l'avanguardia in realtà perché il meccanismo dialettico fra quella massa dei quattro soldati che Giulio Cesare mandava per essere spennati e religioni oppure fra quel gruppo di intellettuali parigini che si buttavano gli ortaggi in testa nella ribellione dell'Ernani oppure fra quel gruppo di assolutamente incapaci di ottenere il successo di artisti fiorentini della metà del XIX secolo cioè fra quel gruppo che avevano sempre e comunque il desiderio di una verifica interna e il sogno di poter trascinare le masse è avvenuto un fatto nuovo non ci sono più le masse allora conviene fare un ragionamento che cosa sono le masse quando si parla di masse cosa sono le masse sono una cosa bizzarra sono la sommatoria di una serie di individui che nutrono costantemente un interesse identico vi do un esempio banale quasi cinematografico quei film degli anni 30 o 50 in cui vedete le ciminiere che fumano davanti alle acciaierie dei croup ma una cosa che si poteva vedere anche da noi in Italia in cittadini più piccoli a Lecco come si poteva vedere a Torino a Mirafiori cioè quando alle 6 del mattino 20.000 biciclette uguali entravano nella stessa fabbrica al suono di un'unica identica sirena si differenziavano forse perché uno aveva la scatoletta col cibo più o meno caldo l'altro c'era freddo ma la differenza si fermava lì la loro vita era parallela di domenica separavano i loro destini perché alcuni andavano a casa del popolo agli altri andavano all'oratorio ma l'unica distinzione sostanzialmente era quella una di destra e una un po' più di sinistra quel mondo lì era un mondo dove i vettori comportamentali le scelte del singolo erano con estrema facilità sommabili uno che entrava nella mensa di una delle fabbriche di allora e faceva un discorso sindacale si trovava tutti d'accordo aveva davanti a sé la massa la massa è stata la caratteristica per un secolo e tre quarti delle nostre civiltà occidentali la massa sembrava allora essere la caratteristica stabile delle nostre società occidentali Carlo Marx nelle Krundrisse del 1849 lo definisce anche abbastanza bene questo concetto dice oggi in Germania ci sono tre realtà sociali in conflitto perenne esiste una realtà sociale fatta dai borghesi tedeschi che stanno bene vogliono continuare a stare bene e per questo motivo sono conservatori esiste un mondo della piccola borghesia tedesca che prima dell'accordo interdoganale tedesco quello che si chiamava il Solferheim prima dell'accordo interdoganale stava meglio di quanto non stesse oggi questa piccola borghesia ha perso gran parte della giatezza della sua vita quindi vorrebbe tornare indietro e per questo motivo è reazionaria esiste il proletariato tedesco che era fino a ieri in campagna e lavorava 14 ore al giorno adesso in miniera ne lavora solo 12 e ha pure la domenica libero quindi pensa di stare meglio di ieri e reputa che domani possa stare meglio di oggi per questo motivo rivoluzionario le masse sulle quali si sono formate le culture politiche artistiche estetiche comportamentali dell'occidente si sono sempre divise in queste tre categorie chi era conservatore chi era reazionario chi era rivoluzionario e questo motore è quello che ha mosso le arti solo che oggi le masse non ci sono più se io vado davanti alle fabbriche mi lecco fra le 6 e le 7 il mattino non vedo mica più nessuno alcuni dormono ancora gli altri si sono svegliati le 5 e mezzo e sono in giro in macchina uno fa il commerciante l'altro fa il promotore l'altro fa l'artigiano o quell'altro si occupa di moda o quell'altro fa il parrucchiere e apre il negozio solo le 10 del mattino quindi si gratta la pena e sta leggendo il giornale la sommatoria nelle popolazioni occidentali degli individui non è più possibile non esistono più vettori paralleli quindi non essendoci vettori paralleli non sono sommabili sono tutti vettori che prendono tante direzioni diverse e se tentaste di sommare quelle direzioni verrebbero zero non succede più nulla siamo entrati in un'altra società che tipo di società è quella nella quale viviamo oggi? che è una domanda interessante visto che scomparse di fatti le avanguardie che fingono ancora di essere avanguardie penso ai miei maici carissimi detti trans-avanguardia dove il trans voleva dire tutto a mio parere sono una finta avanguardia non esiste più l'avanguardia chiunque la riproponga non fa altro che un buco nell'acqua non ci saranno più avanguardie perché non ci sono più le masse siamo di nuovo di fronte a un popolo trasversale allora bisogna fare un ragionamento che cos'è un popolo trasversale? quando è che abbiamo avuto un mondo di un popolo trasversale? in quel periodo formidabile della società europea che si chiama Medioevo che noi oggi consideriamo come un periodo buio ma perché ce l'hanno contata così però anche il periodo nel quale abbiamo scoperto abbiamo fatto i primi passi nelle scienze moderne il periodo in cui abbiamo scoperto che con gli occhiali si vede meglio che senza il periodo in cui abbiamo scoperto il sistema dell'illuminazione nella società nuova Medioevo fu un periodo straordinario da un certo punto di vista Medioevo non aveva prodotto le masse aveva prodotto il popolo trasversale il popolo del Medioevo era il popolo che aveva sopra di sé come prima istanza vera Dio che controllava la sua chiesa controllava il suo clero aveva forse dall'altro lato l'impero che controllava la sua politica ma il vero popolo Medioevale era quello che si ritrovava sulla piazza del mercato e sulla piazza del mercato discuteva e dove in fondo la funzione primaria era quello del predicatore era quello di chi riusciva ad infiammare una fazione contro l'altra e riusciva a convertire i guelfi in ghibellini o i ghibellini in guelfi e ci si ammazzava per gli uno e ci si ammazzava per gli altri ma era sempre una questione popolare per quanto noi avessimo anche per esempio in Italia società talvolta aristocratiche talvolta oligarchiche come quella veneziana talvolta anti-aristocratiche come quella fiorentina per cui se uno non era iscritto in un'arte non aveva il diritto se non lavorava non aveva il diritto di voto per quanto avessimo questo meccanismo complessivo molto disordinato molto disarticolato però il popolo in sé era la realtà effettiva che comprendeva tutti e che nulla aveva a che vedere con l'idea delle masse successive pensate che se applicate questo parametro che vi sto fornendo all'analisi politica di oggi vi chiarisce molti punti si dice è arrivato il populismo Putin sarà populista magari il Salvini è populista la Le Pen è populista non sono populisti sono rappresentanti di una realtà di oggi dove alle masse si è sostituito il popolo trasversale penso che neanche loro siano del tutto coscienti della realtà oggettiva alla quale si rivolgono e della complessità sociale che si sta affrontando oggi viviamo un mondo diverso e però per capire questo mondo diverso forse fare un pensiero rivolgere di nuovo un pensiero al Medioevo torna estremamente utile perché in quel Medioevo del popolo dove ci si incontrava nella piazza dove il clero aveva la sua funzione di mediazione col padre eterno dove un altro faceva il soldato ma poi c'era anche la nobiltà però dove tutto ciò si mescolava sulla piazza comune della città o del paese si era formata una realtà diversa che conoscete tutti Re Artù Re Artù stava fuori dalla realtà del popolo e stava alla tavola rotonda nel mito insieme ai suoi cavalieri e insieme all'ancilotto che partiva per i fatti suoi alla ricerca del Graal e ad esaltazione della sua dama il mondo del popolo genera al di fuori del mondo del popolo una piccolissima area che è di pura elite è per quello che i populisti di oggi alla parola elite tirano sui capelli perché gli fa l'effetto che può fare l'aglio al vampiro ne hanno paura la elite è quella roba di Re Artù cioè il mondo di Re Artù esiste fuori dal mondo del popolo ma la domanda che mi si potrebbe fare è dove è Re Artù oggi e chi sia è Re Artù non è facile definire non l'ho mai incontrato neanch'io Re Artù però esiste un Re Artù della realtà attuale che ha una sua realtà propria e che si viene a definire regolarmente con quel sistema bizzarro che si chiama la rete Re Artù sta nella rete il comico di Genova finge talvolta di essere lui Re Artù ma abbiamo capito che non è ancora lui lui crede di essere Re Artù ma non lo è ma chi è Re Artù oggi? Qual è la realtà all'interno della quale si formano quelle idee che spingeranno l'ancilotto a partire alla ricerca del Graal e soprattutto qual è il rapporto fra il mondo di Re Artù e il popolo trasversale che vive fuori è un curioso rapporto di osmosi Re Artù interpreta alcuni desideri del popolo il popolo percepisce alcune pulsioni di Re Artù e il popolo capisce che se l'ancilotto è partito alla ricerca del Graal e della sua bella probabilmente lui partirà e andrà a fare la spedizione delle crociate sono parallele le due fenomenologie il popolo tra la complessità alla quale noi apparteniamo viene influenzato per osmosi regolari non viene più trainato come facevano le avanguardie non crediamo più alle avanguardie che ci propongono quasi di nuovo crediamo però che esista quel mondo e che in quel mondo lì si possano trovare talvolta delle risposte a delle questioni che abbiamo noi se posta in questi termini la realtà attuale comincia un po' a capirsi il meccanismo la complessità il tentativo di occupare in un qualche modo lo spazio dell'elite il tentativo lo sta facendo Bill Gates e i suoi amici con Google con internet con i controlli con Facebook sono quattro gatti che fra di loro controllano il popolo il tentativo lo sta facendo una parte della comunicazione internazionale e il Putin che manda i suoi messaggini perché tenta di controllare il tentativo e ci prova chiunque non abbiamo ancora costituito oggi una realtà concreta di ciò che saranno le aree di elite che saranno in grado di stimolare i comportamenti del popolo questo meccanismo si ritrova poi anche nelle arti perché se andiamo a ripetita Juvent non sempre a vedere la Biennale di Venezia la Biennale di Venezia di oggi è quella dove il grande comico romano andava con la moglie a vedere la Biennale 30 anni fa è la stessa la Biennale non è cambiata cioè celebra una sorta di suo rito perenne che finge di credere che le avanguardie esistano ancora e non ha mai avuto il coraggio di rendersi conto che queste sono scomparse e che si è formata una realtà diversa che ci sono dei frati in fondo a un bosco che ragionano che inventano che producono delle idee che queste idee trascineranno gli altri non si è resa conto la Biennale di Venezia che il potere sta in mano a Bill Gates e a Zuckerberg e a un gruppo di loro amici che le elite esterne stanno governando il popolo e la massa trasversale allora credo che in questa fase storica rendersi conto dell'elemento e rendersi conto del fenomeno sia già un primo passo liberatorio per andare a scoprire delle alternative e allora nelle arti che cosa vuol dire? vuol dire che mentre da un lato avremo un'arte pop un'arte popolare un'arte condivisa un'arte prefabbricata fatta per essere digerita o per essere imposta dall'altro lato probabilmente come nel medioevo direi tu da qualche parte c'è il tavolo della magia da qualche parte ci sono degli artisti totalmente ignoti che stanno elaborando delle teorie loro proprie ci sono degli scrittori che non hanno il successo di Hulbeck ma che hanno la capacità di inventare delle teorie che ci appariranno fra poco ci sono delle creative delle menti che sono all'esterno del mondo popolare e che stanno seduti al tavolo con Re Artù se fossimo in grado di capire dov'è questo tavolo avremo risolto gran parte dei problemi della nostra vita attuale non so se voi li troverete io non li ho ancora trovati ma l'attenzione dell'argomento è già il primo passo per capire che le cose possano avvenire e in questo meccanismo delle cose che possano avvenire si apre una nuova ipotesi di lavoro mentale ad una fase una fascia della nostra società che oggi è la più discriminata e la più esterna ai diritti decisionali sono i giovani quelli che hanno meno di 30 anni oggi che hanno davanti a sé un progetto di vita che può essere o di sudditanza o di appartenenza ai flussi del popolo oppure di dialogo con queste realtà nuove che sono le realtà elitarie esterne è a loro che spetta il gioco a mio parere loro un giorno o l'altro potrebbe anche darsi che si risvegliassero e se si risvegliano rifaranno non la rivoluzione ma faranno ripartire un meccanismo storico che ci porta avanti che non è più quello dell'avanguardia del futurismo non sono più le illusioni di inventare il mondo migliore sono in fondo le idee che il mondo vada percepito attraverso le sensibilità inattese io non sono un grande entusiasta di quella svedesina piccolina che i genitori hanno dressato per diventare la Greta mondiale però non posso neanche non tenerne conto cioè devo rendermi realmente partecipe di un mondo dove so che questi fenomeni che non erano previsti che non erano codificati che questi fenomeni possono avere un effetto di stimolo sul popolo trasversale Greta è una sorta di animaletto uscito dal fondo di un bosco con una sensibilità intuitiva che altri non avevano rappresenta una pulsione di ansia e di paure che è condivisa fra migliaia di giovani della sua generazione lei è passata vicino al tavolo di Re Artù ha incontrato l'ancilotto e si è illuminata poi non so che fine farà la Greta però intanto ha mobilitato l'opinione trasversale del popolo complessivo che era lì senza avere delle idee precise questa è la fase nuova della creatività e questa fase nuova della creatività avrà anche un effetto curioso sulle arti perché io non dovrei parlare di politica sto parlando di arti e avrà anche un effetto sulle arti mentre noi avevamo all'inizio del secolo sostanzialmente il passato sostanzialmente due categorie di artisti quelli sanciti dalla borghesia Boldini a Parigi che faceva i ritratti delle più ricche signore sudamericane di alcune principesse bizzarre che venivano dalla Polonia o di ricche editiere americane inglesi o francesi era l'artista di successo totale gli alternativi erano negli stessi anni appunto quelli che partecipavano ai movimenti futuristi Gino Severini che tirava la cinghia e dipingeva il balo dell'orso a Parigi oppure Francis Picabia che faceva delle robe elaborava delle immagini apparentemente incomprensibili che per noi oggi sono fondamentali oppure Marcel Duchamp che provocava tutti li prendeva in giro e li faceva vedere un pisciatoio rovesciato dicendo questa è un'opera d'arte perché li prendeva in giro e apriva una nuova area alle fantasie questa contraddizione che allora era esistente oggi non c'è oggi quelli artisti lì non hanno più una funzione non sono più degli alternativi totali noi oggi abbiamo un mondo che è molto più semplificato abbiamo un mondo di grandi artisti che sono spesso degli artigiani brave persone brave persone che fanno delle cose molto ben fatte le portano al mercato se le vendono torneranno a casa le fanno uguali perché le hanno vendute sono dei super artigiani con dei risultati economici talvolta estremamente attraenti poi abbiamo dei personaggi molto bizzarri che sono diventati dei grandi guru penso Michelangelo Pistoletto ancora vivo e di buona salute penso a Gianni Cunelis che è morto da poco che sono dei grandi guru sono quelli che interpretano il pensiero lo tengono risultato trascinano il gusto fanno un po' di avanguardia quando c'era ancora le masse oggi non fanno più le vanguardie ma hanno il successo degno di totale rispetto e poi abbiamo una categoria molto rara molto particolare che sono gli sciamani in fondo al bosco gli sciamani in fondo al bosco sono sempre vicini a Re Artù perché sono i discendenti diretti dai Mago Merlino Mago Merlino esiste di nuovo Mago Merlino è in fondo al bosco e inventa delle arti di cui noi non sappiamo niente ci verranno comunicati misteriosamente o mistericamente un giorno ma per il momento non ne sappiamo niente questo rende molto interessante la ricerca nel bosco e non li troverete nella Biennale di Venezia non li troverete nelle gallerie chissà dove li troveremo ma ho la certezza che Mago Merlino esiste e allora che cos'è che ha Mago Merlino che gli altri non hanno perché Mago Merlino è in grado di percepire di anticipare e di in un qualche modo di avere una visione completamente diversa della storia dell'umanità e della storia dell'arte io avanzo una teoria bizzarra ve la do per buona anche se non ci credete devo fare una dichiarazione pubblica io sono credente e sono convinto che ci sia questo grande orologiaio che fra i tanti pasticci che poteva fare ne ha fatto uno formidabile ha fatto sì che questa sera ci si trovasse in questa piazza chiacchierare cioè ha fatto nascere il mondo lo ha fatto evolvere è stato colpevole del Big Bang è stato colpevole della evoluzione della rottura degli atomi di carbonio era riuscito a trasformare gli atomi di carbonio in amebe e da lì amebe che discendono abbiamo fatto nascere anche il Parlamento italiano cosa straordinaria un progetto formidabile questo progetto formidabile e oggi ne abbiamo le prove scientifiche nasce perché prima del Big Bang nasce il tempo esiste un momento che è comprovato adesso non voglio farvi un percorso di fisica di macrofisica teorica e di astronomia o di astrofisica però ormai abbiamo la certezza che esiste il tempo prima del Big Bang questa certezza viene dall'analisi della radiazione cosmica fossile che si è scoperta a metà del secolo scorso e che siamo in grado oggi di determinare anche nel suo flusso di allontanamento noi abbiamo la certezza oggi che prima del Big Bang c'è stato un momento di storia in cui nasce il tempo prima dello spazio nasce il tempo questo momento è calcolato oggi con assai grande precisione in 10 alla potenza meno 24 vuol dire che facile mettete un 10 fratto e un 1 sotto con 24 0 non è molto grande come momento però è certo abbiamo la certezza di 10 potenza meno 24 come tempo esistente prima del Big Bang allora mi è venuta una fantasia che cos'è un vero sciamano dell'arte perché in fondo io mi sento con un complesso di inferiorità enorme nei confronti dello sciamano però non sono del tutto ancora convinto di essere idiota cioè allora perché lui sa delle cose che io non saprò mai perché lui intuisce degli elementi che formano la pulsione della mia storia e in grado anche di pervertire il mio pensiero e perché forse lui è a conoscenza e rimasto alla memoria di ciò che è avvenuto prima del Big Bang il grande artista lasciamolo come citazione poetica è quello che sa cos'è avvenuto nel momento in cui è nato il tempo ha la percezione del 10 potenza meno 24 e come faccio a riconoscere il grande artista cioè non siamo mica tutti critici d'arte molto spesso i critici d'arte hanno fatto tutto fuorché riconoscere i grandi artisti per un meccanismo semplicissimo perché riescono ad anticipare il mondo di domani conoscendo il mistero del mondo di ieri e così facendo hanno una forza incredibile che troverete non solo nei dipinti e che troverete in modo fantastico nei dipinti futuristi perché ci hanno formato una percezione prendete il quadro che vediamo adesso di palla dopo aver visto quella roba lì è come se nel nostro computer mentale fosse entrato un virus ogni volta che vediamo un'automobile in corsa abbiamo una percezione che trattiene una parte di quella visione lì cioè ogni volta che noi vediamo un evento un momento ogni volta che vediamo quattro tazzine in fila ci ricordiamo un po' del Giorgio Morandi che la dipinte ogni volta che vediamo un flusso di energia ci ricordiamo di alcune immagini di boccioni che l'hanno inventate che cos'è l'arte in realtà quella vera non quella che serve a decorare la parete di casa oppure quella che dicevo dell'artigiano tranquillo è quel meccanismo che consente di alterare la nostra psiche è il virus nel nostro computer dopo averla vista quella opera lì ragionate in modo diverso dopo averla sentita quella musica lì avete una percezione musicale leggermente diversa dopo aver letto quella poesia avete una percezione linguistica leggermente diversa questa capacità di pervertire il nostro meccanismo psichico è il vero percorso dell'opera d'arte e non ha più nulla a che vedere né con l'avanguardia né con gli sciammani né con in realtà con le elite che si stanno formando o non si stanno formando a che vedere con questo mistero formidabile che è il ministero dell'opera d'arte l'opera d'arte ha la forza di trasformare la nostra psiche attraverso un contatto immediato è l'opposto del ragionamento non ha bisogno di essere dimostrata basta che sia stata vissuta e questo curioso rapporto fra noi l'opera d'arte è ciò che vive da quando il primo sciamano nella prima grotta fece vedere i primi cervi ai suoi uomini della tribù primordiale e quello che è servito ai futuristi a fare l'avanguardia è quello che serve ancora oggi a credere che l'arte abbia una funzione e che questa funzione sia attrainante perché ci porta a vedere orizzonti che prima non avevamo previsto che sono gli orizzonti della mente e dell'evoluzione dell'essere umano poi che quest'essere umano abbia una partenza una fine che sia una storia che si completa che sia come pensavano i greci rivolto in una storia dove il tempo torna sempre al punto di partenza all'infinito oppure che sia teleologica e abbia un destino questo ognuno ha la libertà di pensare come vuole uno può pensare che tutto ciò avrà una fine uno potrà pensare che è totalmente un'inutile ripetizione di se stessa ma in questo pensiero nell'uno come nell'altro l'elemento artistico ha la forza di mutare il nostro modo cerebrale molto di più di quanto non è un ragionamento è per questo che il futurismo come mutazione della nostra percezione è stato così importante oggi i problemi sono degli altri oggi quando rileggiamo che sarebbe bello asfaltare i canali di Venezia come diceva Marinetti ci scappa da ridere oggi quando rileggiamo uccidiamo chialo di luna perché vogliamo la lampadina elettrica non ce ne frega più niente abbiamo fatto un passo avanti rispetto a loro oggi abbiamo una percezione che si chiama ecologica del mondo vorremmo avere un mondo con degli equilibri diversi questa idea della modernità che avanza ad ogni costo quell'idea della mitraliatrice che spara abbiamo visto come ha sparato nella seconda guerra mondiale abbiamo visto come ha sparato negli ultimi 50 anni siamo felici che spari un po' meno cioè di fronte alla passione per zac zac boom 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 noi il boom boom non lo vogliamo più abbiamo assunto una logica diversa siamo entrati in una fase diversa dell'umanità ma questa fase diversa dell'umanità a sua volta troverà nel messaggio artistico troverà nel messaggio minimo troverà nella Greta nanetta non molto carina molto alternativa molto svedese molto lontana da noi troverà comunque un messaggio che è quello dell'avanguardia l'avanguardia potrà continuare a svolgere la funzione se diventa veramente la tavola di Re Artù se al tavolo di Re Artù si comincia a riflettere si comincia a progettare si comincia a immaginare il mondo di Dovani lo fanno le arti lo fa la filosofia sarebbe molto bello che lo facesse anche la politica buona serata grazie a tutti grazie a tutti